Loro arrivano da Quartu Sant'Elena, la terza città della Sardegna, quindi ci trasferiamo idealmente al sud della nostra regione. L'abito tradizionale di Quartu veramente l'hanno descritto tutti i viaggiatori che si sono alternati nel corso dei secoli, perché rimanevano affascinati dalle particolarità, dai gioielli, da tutto ciò che davvero arricchiva questa splendida formazione che oggi è rappresentata dall'Associazione Floris de Beranu di Quartu Sant'Elena, che applaudiamo subito. Grazie di essere qui. Beni Beniu Beranu è un saluto alla primavera che loro da 14 edizioni raccontano attraverso tanti amici che si incontrano per cantare la Sardegna, accompagnarla con un ballo o con un suono, proprio come accade stasera qui a Sassari. E allora guardiamo e applaudiamo questo ballo campidanese. Quartu Sant'Elena. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.